un po' da là si taglia così c'è un altro cerotto devo mantenere? se tijskang i tuனi fai così non ci compete ci stas l'osso l'osso questo fa così ok così l'osso l'osso con il bambino sì, il bambino, lo vedo un bambino Sì, buono! Prociutto! Prociutto for Adriano! Tu devi fare i video! Sì, ecco! Guarda come lo toglia, deve essere tre dita! Che tira piedi, che ricco! Se non tira piedi, si toglie le dita! Sì, ecco! Questo per te... Sì, ecco! Buono! 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 Buono!